Noi abbiamo visto che nel primo mandato Trump ha adottato una politica di urto, di scontro frontale con la Cina, dazzi, sanzioni, barriere tecnologiche, volte a impedire il trasferimento di tecnologie statunitensi alla Cina e, come dicevo, favorire l'impatto di produzioni negli Stati Uniti. Ma tutto questo non ha avuto successo. Perché? Perché la Cina ha una struttura demografica e dei costi che è irriproducibile all'estero. Offre un vantaggio talmente colossale a coloro che in Cina hanno delocalizzato, che non sono assolutamente guagliabili da qualsiasi riforma fiscale, da qualsiasi beneficio fiscale, uno Stato come gli Stati Uniti possa promettere. E peraltro, come dicevo, negli Stati Uniti mancano competenze che invece in Cina sono state formate adeguatamente nel corso dei decenni. Per cui, preso atto di questo, probabilmente si tratta di trovare un accordo di massima, un accordo generale, che contempli un accomodamento, insomma, che favorisca, che ponga la Cina, vincoli la Cina ad impegnarsi anche a garantire il ritorno o comunque degli investimenti cinesi negli Stati Uniti, che favoriscono una certa reindustrializzazione, in cambio di cosa però? In cambio forse di una sostanziale modifica all'approccio che gli Stati Uniti hanno riguardo a Taiwan, il che non significa che abbandoneranno Taiwan domani, significa che potrebbero diventare più possibilisti, potrebbero inserire Taiwan, questo tipicamente trampiano, questo discorso, in un più ampio progetto, in un più ampio discorso, anziché parcellizzare le questioni, trattandole nel loro isolamento, si tratta proprio di mettere tutto sul tavolo, ogni carta sul tavolo, per cercare di trovare un'intesa di massima, un'intesa che tenga conto di tutte le questioni aperte. Si tratta di un processo enorme, difficilissimo, che peraltro contempla una, diciamo, un rivoluzionamento dei cardini della politica statunitense, che sono in vigore mai da decenni, qualcosa di paragonabile a quello che è successo negli anni 70, no? Per cui fino agli anni, fino al 1971, la Cina era un, diciamo, l'alleanza comunista tra la Repubblica Popolare Cinese e l'Unione Sovietica, era, diciamo, il nemico perfetto degli Stati Uniti. Poi cosa successe? Che la guerra del Vietnam pose in una posizione di attrito l'Unione Sovietica e la Repubblica Popolare Cinese, gli Stati Uniti se ne accorsero, aprirono la Cina, usarono proprio questa diplomazia triangolare di Nixon e Kissinger, per coinvolgere la Cina, perché era molto preoccupata da riunificazione del Vietnam sotto leggi da sovietica, e riuscirono a tirarla dalla propria parte. Quindi indebolirono, ruppero l'alleanza comunista e condannarono l'Unione Sovietica in un esalamento politico, diplomatico, commerciale, che ha contribuito indubbiamente a condurre all'esito dell'implosione dell'Unione Sovietica. Ma allo stesso tempo questa scelta ha posto le condizioni per l'integrazione della Cina nel sistema occidentale, e quindi per l'ascesa, per la risalita della Cina, non solo nel vertice del potere economico mondiale, ma anche nella gerarchia del valore aggiunto. L'idea degli Stati Uniti qual era? Noi la integriamo, integriamo il nostro sistema, ma videocalizziamo le produzioni di basso e medio, massimo, valore aggiunto. E questo comunque manterrà inalterato il divario di potenza, di capacità tecnologica, di progettualità tra noi e la pubblica popolare cinese. Non è andata così, perché nell'alco di 40 anni la Cina non solo rivaleggia, ma soppianta letteralmente gli Stati Uniti di tutta una serie di settori. Produce più articoli scientifici, più brevetti, ha una capacità industriale che è incommensurabilmente superiore a quella degli Stati Uniti, e soprattutto ha rubato, letteralmente, presidia una serie di mercati fondamentali, critici, che prima erano a pannaggio esclusivo degli Stati Uniti, poi siamo a quello dell'elettronica, dell'informatica, ormai le aziende cinesi dominano questi settori. Per cui si tratta di, per un verso, trovare, come dicevo, un accordo con la Cina. E soprattutto contempla anche un riequilibrio della bilancia commerciale. Non solo con la Cina, ma anche e soprattutto con l'Unione Europea. Trump su questo è stato molto chiaro, ha dichiarato che i paesi dell'Unione Europea sono... tanto deprecabili quanto la Cina. Perché? Perché al pari della Cina hanno degli avanzi commerciali giganteschi nei confronti degli Stati Uniti. Naturalmente questo, come dicevo, è anche colpa degli Stati Uniti che si sono deindustrializzati. Quindi non è che esattamente scaricare tutta la colpa sugli altri sia così logico. Però il punto qual è? Il punto di Trump è 500, 600, 700, 1000 miliardi di deficit commerciale all'anno sono la fotografia di un paese che non produce più niente, che quindi non ha più posti di lavoro da qualità da offrire ai propri cittadini. E quindi se si tratta di un equilibrio della bilancia commerciale, è invece la foto di un paese che riesce in qualche maniera a produrre, a tornare a produrre in tutta una serie di settori e quindi a ricostruire la prosperità di una classe media che si è impoverita nel corso degli anni. Ed è questo che è sull'Europa, secondo me, che si abbatterà pesantemente la mannaia di Trump da questo punto di vista. Perché noi abbiamo visto che Trump, e in particolar modo il suo vice, che è un personaggio molto interessante, che è J.D. Benz, figlio della cintura della ruggine, origine nasce in Ohio da genitori che si sono impoveriti per droga, per situazioni di disagio, provocate proprio, che sono figlie della deindustrializzazione, proprio veramente. Il suo libro, Ligia Americana, il Libili Elegy era un titolo originale, tradotto secondo me in maniera molto discutibile in italiano con Ligia Americana, parla proprio di questo. Ed è, secondo lui, secondo Benz, che è stato anche in Iraq, combattuto, e quindi anche un personaggio che all'interno dell'establishment statunitense è difficilmente criticabile, lui ha spiegato cosa ne sarà, per esempio, del conflitto russo-ucraino. Qual è la posizione dell'amministrazione del conflitto russo-ucraino. Ligia ha dichiarato sostanzialmente che, al suo punto di vista, gli Stati Uniti dovrebbero premere sull'Ucraina per, diciamo, l'avvio di trattative che mirino a, diciamo, a soddisfare quelli che sono le esigenze russe in larga parte, cioè la neutralità di quel che rimane dell'Ucraina, il riconoscimento della sovranità russa sui territori che attualmente sono sotto il controllo dell'esercito di Mosca, compresa la Crimea, compresa Lugansk, Donetsk, Zaporizia e Kherson, per ora, e rinuncia definitiva a sine die dell'Ucraina a qualsiasi prospettiva di adesione alla Nato, in cambio di garanzia e di sicurezza di cui dovrebbero farci carico gli Stati Uniti. E soprattutto ricostruzione della parte di Ucraina distrutta a carico della Germania. Questo è un aspetto piuttosto interessante che la dice lunga su qual è proprio la percezione dell'Europa. Europa che dovrebbe, secondo me, nella logica di questa classe dirigente imparare a camminare sulle proprie gambe. Naturalmente mantenere intatto il vincolo atlantico ma farci carico dei costi che comporta la difesa e non guardare sempre agli Stati Uniti per andare avanti e ricostruire un po' la Nato. Io voglio sottolineare che c'è un'ipocrisia di fondo gigantesca in tutto questo perché sì, è vero che noi stiamo sotto l'ombrello militare statunitense, ma è anche vero che la Nato è uno strumento di cui gli Stati Uniti ci sono serviti per fare i loro interessi. Non hanno mai chiesto il permesso a nessuno per fare quello che facevano. Hanno tirato dentro la Nato anche dentro avventure che non c'entravano assolutamente niente come in Afghanistan. Oppure la Nato è intervenuta in Libia, ma quello darei più la colpa ai francesi britannici che agli Stati Uniti in sé. Il punto è che c'è un... questo genere di ragionamenti che vengono formulati dalla classe dirigente che si è serragliata dietro Trump e nascono da una constatazione, cioè che gli Stati Uniti non sono più l'egemone unipolare di un tempo, non sono più nelle condizioni di dettare la linea, di dettare le condizioni a cui il mondo deve conformarsi. Sono una potenza ancora egemone, ma declinante, nettamente declinante, che è costretta dalle circostanze a concentrare le risorse sui teatri di primario interesse, che sono per il momento l'Asia Pacifico e probabilmente il Medio Oriente, visto come si sta agitando il Medio Oriente. Per cui l'Europa dovrà preoccuparsi, dovrà farsi carico autonomamente delle responsabilità che comporta governare, cosa che non ha fatto dal 1945 in poi, anche conformemente a un disegno degli Stati Uniti, perché il presidio militare dell'Europa da parte degli Stati Uniti, il fatto di aver allevato forze armate, servizi di sicurezza collegati in vario modo agli apparati statunitensi, ha diseducato gli aresi delle filiali, sostanzialmente dei distaccamenti degli apparati statunitensi e ha diseducato le leadership politiche di questi paesi europei al pensiero strategico e lo si vede oggi, sono completamente in balia degli eventi, non riescono a formulare un ragionamento minimamente sensato rispetto a tutte le questioni aperte che ci sono dall'Ucraina alla Palestina. Grazie. 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 Grazie.